Ciao ragazzi, bentornati qui sul canale, allora prima di partire vi ricordo di iscrivervi, like, commentate, condividete Allora ragazzi, volevo oggi video particolare, anche un po' un video se non meno malinconico, tra virgolette Allora ragazzi, ieri è arrivata questa notizia che praticamente Big Mac Maccarone ragazzi si ritira dal scaccio giocato, smetterà di giocare Maccarone Abbiamo fatto una notizia che è arrivata dopo l'ultima stagione buona secondo me con la carrarese Maccarone ha deciso appunto di ritirarsi dal scaccio giocato ragazzi Perché ho detto una notizia un po' malinconica, perché ragazzi comunque Maccarone per l'Empoli e per l'Empolese è comunque un simbolo ragazzi Un giocatore che ha disputato tante stagioni ragazzi, ha fatto tanti gol, tante presenze Allora Maccarone era arrivato all'Empoli due stagioni dal 2000 al 2002, 68 presenze, 26 gol Poi ragazzi è andato al Siena, è tornato all'Empoli nella stagione del 2012 Quindi dal 2012 al 2017 dopo la disgraziata retrocessione di Palermo Ragazzi per noi 198 presenze con 66 gol ragazzi Quindi per lui un bottino generale con la maglia azzurra di 266 presenze La bellezza di 92 gol ragazzi per Big Mac, Maccarone Ragazzi che dire, un giocatore secondo me simbolo che veramente tra quelli che ha passati da Empoli Incarna veramente il giocatore che noi vogliamo vedere qui Con questa maglia ragazzi, un giocatore che veramente in campo ha dato tutto Ha sempre dato tutto quello che aveva, ha fatto assist, ha fatto gol ragazzi Nei momenti di difficoltà ha preso per mano la squadra, non ci scordiamo l'accoppiata Maccarone-Tavano ragazzi Giocatore che il famoso play-out con Aglietti, con il Vicenza ragazzi Ha segnato il gol del 3-2 che ci dette appunto la sicurezza della permanenza Serie B ragazzi, giocatore veramente mai parole fuori luogo Sempre concentrato ragazzi Un giocatore che ha veramente ha dato tutto Cioè anche quando perdevi non gli potevi mai rinforzare niente a questo giocatore ragazzi Big Mac è un giocatore ragazzi simbolo che rimarrà nella memoria insomma degli Empoli E chissà ragazzi che un giorno Big Mac non possa tornare in società Chissà con un ruolo magari anche come vice allenatore Ho letto che andrà a prendere appunto il patentino di allenatore Che lo sa ragazzi Oppure se no magari come vice allenatore comunque nello staff Chissà insomma mai dire mai ragazzi questi giocatori possono comunque sempre ben accerti Che conoscono sia l'ambiente sia la piazza Conosso insomma sanno gli umori quali sono Quello che la piazza vuole, quello che la piazza cerca Ragazzi sono sempre i giocatori che comunque qualsiasi insomma Se torneranno veranno comunque sempre ben accorti Quindi ragazzi un salutone, un ringraziamento a Big Mac Macrone per quello che ha dato ragazzi Non lo dimenticheremo perché ragazzi questa piazza non dimentica mai Chi esce dal campo con la maglia sudata riportatevelo bene Quindi ragazzi un salutone a Big Mac Macrone grazie di tutto E grazie a voi per aver visto questo video Noi ci vediamo al prossimo video qui sul canale Un saluto a tutti, ciao!